lo stiamo facendo stiamo facendo il pieno perché andiamo a fare un viaggio spettacolare con le bimbe un attimo che devo inserire il codice ma andiamo da soli ovviamente no andiamo con le sono pronte non siamo arrivati dobbiamo ancora partire dobbiamo ancora partire allora andiamo due giorni anzi tre a padova a fare tanti giochi esatto buon viaggio abbiamo fatto solo un'ora di macchina e ce ne manca solo una però le bimbe che comunque non è che stanno molto strette è bene comunque dare un po di tempo per sgranchirsi le gambe ferme aspetta blu sopra shirli vieni su il mega dog diversiamo un po d'acqua ci sgranchiamo un attimo le zampe addirittura doppia ciotola sembra che non gli interessi più di tanto bere prima si annusa poi si beve siamo arrivati abbiamo già una prima grandissima difficoltà oltre a quella che dobbiamo in due allestire lo stand con quattro cani pazzi che girano e farli scendere su queste grate piano bimbe vi devo dire una cosa vi devo dire una cosa ci sono delle grate ma niente paura ci siamo andiamo a scoprire il nostro stand dov'è com'è quante grande perché chi è perché chi è come si chiama è lui bello largo spazioso ma soprattutto ho già visto una porta di back che sarà fondamentale per i riposini delle bimbe a lui fa vedere la porta adesso vi faccio vedere una roba figa a quattro zampe in fiera ovviamente non può mancare l'elefante quattro zampe le ha quindi avete una vera e propria area relax area giochi relax lasciamo sbagare le bimbe qua gli diamo un po da bere staranno qua intanto che io e aca ci occupiamo dell'allestimento dello stand che come avete visto è spoglio non c'ha manco il nome allora aca diamoci da fare facciamo una cosa tu allestisci tutta la parte stand esterna io vado dietro le quinte e monto tutti i giochi che poi verranno man mano portati fuori quando è ora di fare i giochi ho detto giochi un po di volte aspetta ma guarda te questo è il cerchio che paura vediamo come ha messo aca viene a sentire questa buscetta uno slalom un cerchio di fuoco un quadrato e il nostro amico tubo ma queste sono solo quattro delle tante sfide che faremo e le altre sono ancora più particolari vado a vedere come è soca vi volevo far vedere una cosa su questo non siamo aggiornati perché è quello della fiera vecchia ma che qualcuno blu blu visto che manchi te in quello lì ciao però in questo non mancherà adesso state a vedere che gigantografia tiriamo fuori questo è il nostro mood attuale contentissimo vieni qua dammi un bassino sono così contento che facciamo la fiera va bene blu ha tante energie e ce ne dovrà dare in questa fiera siamo quasi pronti lo stand è quasi al completo diciamo un 75 per cento e lo vedrete completo nel giorno 2 che poi sarà il giorno 1 della fiera mentre blu e shirli litigano dai 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 che blu ne ha ti facciamo riconoscere sempre comunque andiamo a casa scopriamo la nostra stanza d'hotel andiamo a cena e domani si comincia e siamo in casa finalmente ovviamente la prima che è andata a mangiare è Liz che ha quasi finito la sua pappa Mary aspetta Liz per mangiare la sua abbiamo il nostro bimbo qui che si sta guardando il suo video e anch'io sto aspettando la mia pappa arriva subito vado a vedere un attimo come sono messe shirli e blu perché blu è un po' in una situazione particolare allora qui dovrebbe esserci shirli si c'è shirli vediamo se ha finito la sua pappa no dai mangia la pappa che dopo vi devo portare a fare la cacca vai c'è qualcuno che sta rompendo il bagno vediamo chi è che fa sti pianti cosa stai facendo blu non si dà mai pace perché vuole sempre guardare prima di mangiare cosa c'è nelle ciotole delle altre e quindi non si dà pace perché andavano usare tutte le altre per questa l'ho chiusa in bagno vediamo se ha mangiato eh no guarda quanto pappa che c'è allora io te la lascio lì se non mangi sono cavoli tuoi eh al prossimo aggiornamento è arrivata l'ora delle pipì e delle cacche tocca già a Mary blu siamo in un parchetto più o meno vicino a dove stiamo e Liz e shirli hanno già fatto il loro turno e non hanno tra l'altro prodotto nessun tipo di materiale spero non lo facciano in casa stanotte ho perso Mary ah no è qui tra l'altro queste due non hanno neanche mangiato tutta la cena ora finiamo di fare i nostri bisognini e andiamo finalmente a cena perché ho lo stomaco veramente 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 vuoto pausa cena ecco ACA nuovo special guest Alessandro Presigotti single tra l'altro per chi fosse interessata o interessato le bimbe ragazzi sono a casa stanno facendo la guardia all'appartamento hanno fatto il loro giretto le avete viste sono belle tranquille poi tra poco vedrete come sono messe quando rientreremo a casa passeggiata dopo cena delle bimbe che sono super cariche per la giornata di domani sei carica? si filo sono pronta? si dai buonanotte ci vediamo domani che la fiera abbia inizio buongiorno filo ben svegliato come stai? buongiorno si sbrigati che non dobbiamo fare tardi ciao se non mi dai la pappa ti mangio il titino buona pappa buona pappa tè con pomodoro quelle sono di me ok? brutta sto c***o ma te non dici un c***o sulle scale in salita ci stiamo lavorando un pochettino sulle scale in escesa è un disastro ho il cuore a mille e non ne vuol sapere tocca prenderle in braccio per tre piani tutte le volte dai andiamo alla fiera va là nonostante Blue sia una mangiona se ci siamo noi in giro in un posto nuovo non mangia quindi intanto ho portato a far fare i bisogni alle bimbe spero di fargli fare qualcosa in giro intanto che Blue speriamo finisca la sua pappa il pascolo delle otto di mattina procede tranquillissimo le avete fatte tutte? eh? Blue Blue non è stata cattiva nel senso che non ha fatto bisogno in casa ma non è stata neanche brava Blue Blue perché non ha mangiato quindi non avrà tanti bisogni da fare forse infatti adesso Blue Blue mi accompagnerà a mangiare a me andiamo in pasticceria e per chi se lo stesse chiedendo si H e anche Alessandro stanno dormendo vuoi avere cani? ti devi svegliare un'ora e mezza prima dell'ora in cui ti sveglieresti se non ci fossero dai sbricati che facciamo tardi Blue Blue fai la brevina? eh muoviti adesso andiamo adesso andiamo ok niente ci sono delle scale quindi non possiamo andare alla fiera Blue torniamo a casa fine del video iscrivetevi al canale ciao allora Shirley è andata da sola Mary e Lizza anche Blue Blue andiamo dai Blue Blue vieni oh ha dimenticato le uccano in macchina dai dai che paurosa affetente ciao figurazze proprio da subito un disastro eccoci guarda quante sono belle le veterane già sanno cosa gli aspetta è bello quel cagnolino blu hai visto? questo è vero Blue Blue eh sì abbiamo postato ho lavorato proprio no Lizza hai visto il cagnolino? prega niente Lucirli? niente Blue Blue hai visto? eh non so figo non mi figo andiamo a fare colazione andiamo a fare colazione Mary via e siamo partiti è tutto pronto con l'abbaio di scirmi grandi bimbe la prima cosa che si nota è una Blue ingiustamente incarcerata giustamente se qualcuno sa perché Blue è incarcerata lo scriva nei commenti noi abbiamo diverse idee ma intanto ti piace il nostro stand? wow basta tu facciamo un gioco facciamo un gioco non ti arrabbiare Blue Blue non ti arrabbiare ti vedo carica Blue Blue famiglia Sirly impostore non sei Sirly ma brutto insolente lascialo stare c'è un altro parente guarda quanti ciao sai chi sei invece? azzurra con blu perfetto oh questo vuole me invece ma come si permette vabbè tutte le grandi star hanno chi prova a copiarle ehi hai visto chi c'è? ragazzi Dalia mi ha fatto un regalo e dentro c'erano tante belle sorprese con delle gomme con faccia di cagnolini e gattini e un disegno per H dove vi facciamo notare che H è più magro di filo è più magro della verità sicuramente qui è più magro della verità per Filippo questo tu sei bravissimo Lizza baia sempre Shirley è la sua preferita blu anche lei mi piace che è una peste Mary che è sempre stanca cioè è tutto vero tranne la prima frase tu sei bravissimo c'hanno anche le vignette i cani raga allora Mary non ho capito è della Juve allora io sono dell'Inter però guarda che carine Lizza e Shirley e blu grande ma posso dirti che sei molto brava e creativa? beh io direi che dobbiamo fare tutti un applauso a Dalia belle doc guarda brava Dalia belle doccia Pietro cosa stai facendo? è tutto il giorno che i cagnolini maschi danno da dire a blu e adesso blu si sta vendicando con un bambino maschio che è Pietro e quando blu e Shirley avranno finito di litigarsi il pupazzetto si sfideranno in una gara all'ultimo tubo più salto nel cerchio di fuoco avete fatto bimbe? ma io non avevo capito che fosse una gara di tiro alla fune lascialo lascialo lo lasci subito ti mangio ma vediamo se lo snack al manzo le ha distratte l'ha già vinto vediamo chi riesce per prima a fare tubo più salto nel cerchio pronte bimbe? ci siamo bimbe? siete pronte? allora vai lo voglio lo voglio io lo snack al manzo hanno fatto una rissa nel tubo dove è Shirley? pirli tieni guarda te vado anche a te vai blu vai blu vai blu vai blu bravo attenzione perché abbiamo uno special guest ciao piccolo è arrivato il gigante lo so fare anch'io cosa credi? vai 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 Shirley arrivo arrivo dove va? è sparita è il trucco di magia 3 e 4 vai Mary vai Mary vai Mary vai Mary vai Mary vai piccola ed è tornata indietro ci prova Sienna che non è una delle mie cagnoline si somiglia tantissimo brava grazie Sienna scusate ma gli esperti di agility ci sono già di là non è sono gli altri scusate comunque come facciamo a convincere tutti questi cani a fare tutti questi giochi male vabbè questo è un altro discorso parliamo un attimo di una cosa Fino siediti qui con me arrivo di cosa parliamo? mi sembra che sia chiaro le pappe che state vedendo in questo video sono tutte di oasi nello specifico state vedendo i premietti ma abbiamo anche tante pappe per l'alimentazione quotidiana in tutte le nostre vite e Shirley fuori campo ce lo conferma in questi anni ne abbiamo provate letteralmente in tutte le salse e la linea che utilizziamo di più è la One Animal Protein si tratta di alimenti monoproteici ovvero preparati con una sola fronte proteica che può essere variabile tra agnello salmone maiale coniglio cinghiale quindi sono pappe che non hanno dei mix di carne diverse ma ne hanno una sola ed è pari la percentuale del 48% che è una percentuale molto alta è una pappa anche particolarmente digeribile che rispetta anche dei pancini delicati come i loro anche se non c'è Mary adesso vi troviamo anche Mary ed eccoci qua con Mary se avete cani con pruriti sensibilità cutanea o intestinali è la linea perfetta per loro perché tratta anche questo specifico tipo di cose per non parlare del manto folto e lucente grazie agli acidi grassi omega 3 e omega 6 dammi subito la pappa è un bacino che sono contenuti in questi alimenti e un'altra cosa molto importante e non di poco conto è che alle bimbe piace molto e la slampano direttamente in ogni loro pasto quindi come state vedendo in questo video gli snack sono molto molto appetitosi ma vi consigliamo vivamente anche tutta la parte delle pappe quotidiane ma continuiamo con il video via via continuiamo con il video andrai oddio cos'è successo come si scende da qui bravo si il premio il premio bravo ve l'ho detto le donne sono più sveglie vediamo mia è già pronta proprio per essere posizionata ha già le gambe che frullano che quando si però mia per lei dura di più il tunnel possiamo dirlo è tipo il trappasso olido e molte bianche esatto arriverà tra un mese brava mia bravo allora vai da papo vai vai chiamala 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 two hours later bravo ma è il topolino bellissima e anche bravissima siamo arrivati che non sapevamo salire le scale siamo andati via che non sappiamo scenderle siamo stanchissimi andiamo a farci una bella doccetta e poi a mangiare qualcosa secondo giorno di fiera per fortuna ci siamo riposati anche se non si direbbe lo so da come mi vedete dalla mia voce andiamo a fare la storia andiamo a fare le storie stamattina c'è lezioni di storia ah storia dell'arte vediamo se siamo migliorati migliorati a fare con quelle lì col cavolo prendimi in braccio noi staremo qui fino a fine fiera sempre le solite siamo anche oggi lui ha fatto una figuraccia è arrivata bella che è una mini lì ti prendi sei un po' è becco di no si te sei più grande non c'entri niente si guardate che carina bella è una coccolona come quelle grandi la prossima sfida la sceglieremo grazie al lancio di un dado però come al solito chiedo al mio editor perché non ce l'ho editor mi metti un dado in mano è arrivato arrivo Richard editerà il video da qui è già pronto allora lancia te il dado vai dove lo lancio dove ti pare sopra la gente sull'elefante tre stay se tolto i peci come junior adesso che le altre bimbe sono lontane possiamo rivelare tranquillamente che la cagnolina preferita di Richard è Liz che è qua quindi visto che è uscito stay Richard mi sfiderà e proverà a rubarmi Liz con cosa? con l'aiuto del suo snack preferito l'involtino con filetto di anatra questa parte tra snack preferito e l'involtino con filetto di anatra ovviamente me la tagli quindi io cercherò con sole parole senza toccarla di tenere Liz all'interno del quadrato l'obiettivo di Richard è farla uscire punto molto semplice so perché ma Richard vincere in un secondo qualsiasi cosa succeda tu devi stare ferma guarda che cosa buona tu qua sta spavando ma non sta andando pronta? vai ha spavato era tutto fake era tutto preparato basta che ti avvicinassi un secondo dopo facciamo un bagheggio ovviamente io in realtà ho perso questa sfida ma l'editor l'ha aggiustata in modo che salutiamo la montagna che salutiamo l'editor un inception incredibile ora voglio provare a far fare un'attività nuovissima per Blue state a vedere nel tragitto per andare a fare calcio Blue ha incontrato sensei che forse non è felicissimo sarà bellissimo raga compensa con la bellezza Blue chi è il gatto? ma quanto si bella attenzione attenzione stava per arrivare una carezza ciao alla prossima ciao Blue perché i giocatori entrano in campo Filippo Capriotti e a suo seguito Blue Blue sta per giocare a calcio vediamo come se la cava e se riusciamo a fare un gol innanzitutto oggi vediamo due cose basi perché comunque per arrivare a fare una partita completa ci vuole un po' un po' di tempo insomma comunque magari mettiamo un po' le basi vediamo un attimo facciamo gli spostamenti laterali e poi proviamo il push diciamo che è il movimento che è il fulcro del treble con la naso con la spalla dovrebbe portarti la palla in porta questo tra dieci anni a motivare Blue in questa partita di calcio ci saranno i wustel Blue Blue oggi scoprirai cos'è un wustel è molto buono il wustel si guarda come sono bravo dovrebbe farlo col muso dovrebbe farlo col muso con il naso o con la spalla si signora ho capito vuoi la zappa quindi ha fatto fare wustel poi destra e di nuovo seduta con la destra guidiamo il cane ancora quindi la sua destra quello è un comando seduta brava adesso Blue Blue ti devi spostare a destra seduta brava Murina seduta proviamo il push che sarebbe la propria spinta a portare la palla con il tocco del naso in porta la invito a toccarlo in questo momento qua l'ho aiutata un attimo per spostarla in maniera che comunque non renda paura bravissima stiamo facendo scoprire a Blue che lì sotto c'è un tesoro hai visto che c'è l'avvocata da sola si bravissima brava Blue si 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 push brava brava piccola secondo me ha delle potenzialità bisogna come tutte le attività lavorarci ok posso provare la devo fare io ma volete volentieri tu devi fare gol nella porta c'è sto filo giochiamo è calcio non è pallavolo Blue push brava devi spingere un po' più forte adesso va bene allora impareremo anche questa giocare a calcio ringraziamo tantissimo Ursula e ti faremo vedere dei risultati brava la nostra campionessa e vediamo come stanno le altre che saranno un po' provate non vi ho detto che a 2000 like insegna a Blue a giocare a calcio proprio quello sport quindi non sai fare tiro esatto meglio di me quindi porta 9 palle a comando porta le palle in porta però ci vogliono i like poi sono 3.000 3.000 like cosa fai con chi ce l'hai a quest'ora si ragazzi ci siamo dimenticati di salutarvi quando abbiamo smontato lo stand e di farvi vedere la parte finale però eravamo stanchissimi eravamo tutti demoliti tranne una le altre sono tutte dentro a dormire ah l'ho già portata a casa io sono morto e questa ancora by al gatto comunque grazie a tutti è stata un'esperienza bellissima ed è stato bellissimo vedervi e conoscervi uno ad uno io cerco di sedare a Blue voi intanto iscrivetevi grazie a tutti